Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato al telegiornale degli aggiornamenti sulla giornata di oggi. Ci sono delle novità sul ritrovamento del corpo di un uomo di 52 anni avvenuto alla periferia di Treviso. Era riverso in pochi centimetri d'acqua, l'uomo è stato identificato. Si tratta di Stefano Toninato, nato a Recoaro Terme nel Vicentino ma da tempo residente a Treviso. Cosa sia accaduto però resta ancora avvolto nel mistero. L'uomo ha un passato difficile alle spalle. Il sostituto procuratore che sta seguendo il caso al momento ha aperto un fascicolo per omicidio. Sarà comunque l'autopsia, dare ulteriori elementi per stabilire le cause della morte e fornire elementi utili alle indagini. È di nazionalità nigeriana. Il migrante è arrestato con l'accusa di aggressione e tentata violenza sessuale nei confronti della donna che stava accorrendo a Bagnoli, in provincia di Padova. L'immigrato era ospitato all'interno della struttura San Siro. Nel suo armadietto i militari hanno trovato anche il cellulare della vittima. Al vaglio in queste ore un'altra possibile violenza nei confronti di una seconda donna. Lui, 21 anni, al momento dell'arresto avvenuto all'interno del centro di accoglienza è rimasto calmo e tranquillo. Ma chi è questo ragazzo arrivato in Italia per chiedere aiuto, asilo politico, un giovane scappato dalla guerra? Se lo stanno chiedendo in tanti e la conclusione è solo un orrido no. Anche perché in tanti sono riusciti ad entrare all'interno del suo profilo Facebook e guardare un po' come svolgeva le sue giornate. Le proteste oggi sono più forti dei mesi scorsi e sono numerosi gli appelli affinché questo genere di accoglienza possa cambiare al più presto. Chissà quante volte navigando in internet avete visto prodotti di firma a prezzi bassi, a prezzi convenienti. Nella maggior parte dei casi fate attenzione perché si tratta di contraffazione. Falsi che vengono online abusando della buona fede delle persone ma anche creando enormi danni al tessuto economico. Oscurati oggi 381 di questi siti, 17 persone indagate al bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza. Sentiamo il servizio con i dettagli. La contraffazione viaggia anche attraverso internet. Siti creati ad hoc per vendere materiale falso sono stati individuati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli. Un'operazione che ha risvolto in tutto il territorio nazionale, considerato che le venditi online potenzialmente raggiungono ogni parte d'Italia. Sono 381 i siti internet italiani ed esteri e 15 profili Facebook sequestrati o oscurati, attraverso i quali venivano venduti prodotti contraffatti fabbricati in Estremo Oriente. 17 persone risultano indagate in Campania ma ce ne sono altre residenti anche in Veneto. Scoperti veri e propri negozi virtuali dove venivano venduti capi di abbigliamento e orologi dei famosi brand. Gli inquirenti hanno sequestrato i siti italiani e cancellato i profili Facebook e con la collaborazione dell'ente americano che è responsabile dell'assegnazione degli indirizzi internet si è provveduto all'oscuramento di siti esteri. Tra questi anche numerosi che avevano il suffisso .it ma si trovavano all'estero. A Mestre oggi è stato inaugurato il nuovo parcheggio a sette piani. Si trova in via Trento e adiacente la stazione ferroviaria di Venezia Mestre. Un parcheggio che ha comportato un investimento complessivo per 5 milioni di euro. ha una superficie coperta di 9.000 metri quadri di cui si aggiungono all'esterno oltre 1.500 metri quadri per un totale di 296 posti auto. A Padova i baschi verdi della Guardia di Finanza hanno arrestato un ladro in trasferta. Sentite la dinamica davvero incredibile di quello che hanno visto i militari. Un furgone in movimento con un uomo aggrappato alla maniglia. E' questa la scena che hanno visto gli uomini dei baschi verdi in via Longhina a Padova. Il mezzo poi si è fermato. Hanno soccorso l'uomo aggrappato e si sono messi all'inseguimento di un altro uomo che si era precipitosamente lanciato fuori dal mezzo e si stava dando alla fuga. Una volta bloccato, gli uomini della finanza hanno scoperto che si trattava di un ventenne napoletano in trasferta a Padova per compiere furti. Dentro al furgone c'era anche materiale vario, probabilmente anche quello oggetto di furto. Il ventenne, già con precedenti, è stato condannato a sei mesi e venti giorni di reclusione. Una notizia che arriva dal mondo della sanità. Il piano per l'eradicazione dell'epatite C è operativo da subito con l'allargamento dei criteri per il trattamento di tutti i malati. Lo ha affermato il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Mario Melazzini, che ha illustrato ufficialmente i nuovi 11 criteri messi a punto dall'Agenzia e le società scientifiche per l'accesso ai farmaci di seconda generazione. I criteri annunciati saranno presto pubblicati con una determina in gazzetta ufficiale in modo che tutto sia chiaro e ufficiale. L'epatite C, che registra in Italia 200-300 mila malati diagnosticati, ha sottolineato Melazzini, è un problema di salute pubblica. L'Italia è il primo paese in Unione Europea ad aver attuato un piano triennale per l'eradicazione del virus. Ora ha chiarito i nuovi 11 criteri per il trattamento e l'accesso alle cure e dicono in sostanza che tutti i pazienti con epatite C verranno messi in lista essendo presi in carica dei centri e verranno trattati con le terapie innovative. Stava lavorando in campagna quando il trattore che stava guidando si è rovesciato. Un uomo ha perso la vita questa mattina in un incidente tragico. Stava lavorando su un vigneto, era a bordo di un trattore, quando ha perso il controllo del mezzo che, capottandosi, si è rovesciato, travolgendolo. Ha perso la vita così un uomo di 70 anni. L'incidente è avvenuto a Somma Campagna, in provincia di Verona. Sul posto sono arrivati numerosi soccorsi, tra i quali i vigili del fuoco, l'elicottero del 118 e le forze dell'ordine. Per il settantenne però non è stato possibile fare nulla. E anche a Padova un uomo di 52 anni è rimasto coinvolto in un incidente con un trattore. Le sue condizioni sono gravi. Era in via Pappadopoli, in città, e stava cercando di rimorchiare con il mezzo un grosso ramo che era caduto a terra. Anche in questo caso, durante le fasi di manovra, il mezzo si è rovesciato, travolgendolo. L'uomo è finito sotto il trattore, ma per fortuna in questa circostanza è vivo, anche se ferito. Ha ricoverato all'ospedale per numerose ferite e lesioni. Guida in stato di ebrezza a Padova. Sentiamo il bilancio di una notte di controlli. L'altra notte la polizia stradale a Padova ha svolto numerosi controlli in città per contrastare la guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 20 le patenti ritirate su 205 persone controllate. Il provvedimento di ritiro ha riguardato 12 uomini e 8 donne. L'attività di controllo pianificata a livello nazionale dal Servizio Polizia Stradale prevede l'introduzione di nuove misure organizzative, atte a ottimizzare l'attività di accertamento, adeguandola agli standard imposti a livello europeo. In primis il prelievo di liquidi biologici direttamente su strada, quindi con la saliva, attraverso test rapidi di screening che in caso positivo possono essere oggetto di accertamento quantitativo con valenza medico-legale presso laboratori dedicati della Polizia di Stato. Utilizzati strumenti precursori e relativi kit diagnostici per il controllo preliminare della presenza di stupefacenti donati dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale. Attivisti di un nuovo movimento denominato Vicenza si solleva. Hanno occupato questa mattina il cantiere di Borgo Berga nei pressi del nuovo Tribunale Berico. Alcuni manifestanti sono saliti sulla gru per appendere striscioni, altri si sono incatenati per bloccare i lavori. All'esterno altri attivisti hanno attivato un presidio. Si tratta di un'area molto vasta con alcuni condomini già completati, alcuni realizzati nello scheletro. I contestatori affermano che la grande opera non sarebbe compatibile con l'area in cui è stata realizzata. Ed ora uno sguardo alla situazione climatica prevista sul Veneto. Previsioni a cura dell'ARPAV di Teolo. Gli effetti del campo di alta pressione presente sul Mediterraneo vanno gradualmente a indebolirsi per il progressivo approfondimento di un nucleo depressionario sulla penisola iberica. Quest'area di bassa pressione attiverà un flusso umido da sud-ovest che porterà frequente nuvolosità e qualche precipitazione, specie tra domani e dopodomani. Da venerdì maggiori schiarite con temperature massime superiori alla media. È tutto per questa edizione. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci a domani. Grazie mille.